È tutto pronto per l'inizio del nuovo anno scolastico, gli studenti piacentini torneranno sui banchi di scuola a partire dal 15 di settembre, non tutti però perché 45 classi dei licei Colombini e Respighi faranno lezione qui in questi moduli didattici alle mie spalle che sono stati realizzati nell'area demaniale di Viale Malta dove c'è il parcheggio. Un trasferimento che si è reso necessario dall'intervento antisismici che sono stati programmati nei due istituti e finanziati dal PNRR. Sono 14 in totale gli edifici scolastici da riqualificare in capo all'ente di via Garibaldi secondo i tempi dettati dal PNRR. È la prima volta che a Piacenza si è reso necessario gestire il trasferimento di centinaia di studenti dalle proprie aule in container per poter consentire l'apertura di cantieri diretti al rinforzo strutturale e all'adeguamento sismico degli edifici scolastici di proprietà della provincia. Oltre alle aule l'area sarà attrezzata con bagni e moduli che ospiteranno i laboratori didattici e gli uffici di presidenza e per gli insegnanti. Per consentire la collocazione dei container è stata rimossa la vegetazione presente nell'area che però poi verrà sostituita. Quando i lavori saranno terminati è prevista una ripiantumazione di ipocastani, noci e acace per una nuova area verde che permetterà, spiega la provincia, un miglioramento ambientale. I lavori qui proseguono a ritmo serrato, l'intervento è praticamente terminato. Il progetto definitivo poi verrà presentato il 12 settembre dalle autorità.